in questo video mi metto a fare l'influencer o meglio il de influencer colui che consiglia cose da non leggere, prodotti da non acquistare. Infatti il mio primo consiglio di lettura è di non leggere niente se non si è sicuri o ragionevolmente sicuri di trovarsi di fronte a qualcosa che valga la pena leggere. Quindi il mio primo consiglio è non buttare tempo a leggere libri divulgativi sulla meccanica quantistica. Crescono come i funghi, sono scritti male, da gente che non ha molto da dire se non scrivere qualcosa per cercare di intercettare qualche persona che ha sete di conoscenza ma che partendo senza le basi può accontentarsi di qualunque cosa. Poi ci sono i libri nei quali si cerca di collegare la meccanica quantistica con qualcosa che riguarda il comportamento umano, le relazioni, oppure lo yoga, la meditazione. Bene, lì c'è un trucco che vi posso rivelare per smascherare qualunque impostore ed è questo. Invece della parola quantistico troverete usata la parola quantico. Non quantistico ma quantico. Pensateci un attimo a quante volte l'avete visto. La parola che è entrata in uso è quantistico, non quantico, quantistico. Quantico sarebbe stata anche una parola più semplice, più pulita, forse migliore, però non è quella che è entrata in uso e quindi quando qualcuno usa la parola quantico sapete subito che quello è un impostore, non sa nemmeno quale parola occorre usare. E quindi una parola creata a uso e consumo del clickbait e di queste cose qui. Non mi sentirete quindi consigliare nessuno dei libri che troverete in circolazione. Su questo ci potete anche mettere una pietra sopra, ne ho scritto uno apposta perché non esistono libri che dicono quello che andrebbe detto e tantissimi dei libri di autori famosi, non facciamo nomi, scivolano immancabilmente verso il lato umano. Invece di raccontare che cos'è la meccanica quantistica vi vengono a raccontare della grandezza dei padri della meccanica quantistica, sicuramente sono stati delle persone straordinarie, ma raccontare come una scoperta sia avvenuta e umanizzare il racconto stesso è uno dei tanti trucchi per vendere, perché chiunque ve lo spiegherà che nella comunicazione così funziona, ma non è uno dei mezzi con i quali si può comunicare un contenuto. Si comunica quindi un contenuto un po' posticcio, addomesticato, ridotto ai minimi termini a uso e consumo di una scrittura di libri che non ha nessuna ambizione filosofica. Questo è vero perché nessuno di questi autori ha l'ambizione di partire dalla meccanica quantistica per costruire un discorso, scavare in profondità, però siccome non si pongono ambizioni più alte, anche quello che spiegano lo spiegano in maniera molto poco profonda o superficiale o insistendo su aspetti che possono destare curiosità, ma non possono assolutamente comunicare la profondità della rivoluzione concettuale che sta dietro la meccanica quantistica. E per fare quello non basta ripetere come papagalli quelle due tre cose che si sa possono risuonare, possono attrarre click, possono attrarre ricerche su youtube o su google, ma bisogna anche prendersi dei rischi e oggi ci si prendono pochi rischi perché siamo nel mondo dei follower e chi segue chi viene dopo non può scoprire nulla di nuovo, non può guidare seguendo e quindi chi scrive segue l'interesse che va e non può crearne di nuovo interesse verso nuovi argomenti e chi legge è costretto a seguire chi segue dal momento che anche chi scrive segue. Questo rende molto impervio scoprire cose nuove perché premia proprio chi non scopre nulla, chi non prende nessun rischio, chi ripropone all'infinito il solito premasticato già digerito e già triturato senza nessuna novità, perché nel creare delle novità ovviamente ci si avventura verso un qualcosa nel quale non c'è un mercato garantito, non c'è un insieme di parole chiave già rodato che funziona, nel quale bisogna costruire tutto invece che cercare parassitariamente di lucrare su quello che già è in circolazione. Veniamo quindi ai temi di quei consigli che voglio dare stasera, sono pochi libri, ve li potete leggere tutti quanti in poche settimane durante l'estate e sarete pronti per affrontare il nuovo ciclo di video che manderemo in onda in autunno. Prima di questo vi do alcuni consigli sulla filosofia di Nietzsche, visto che abbiamo fatto dei video per legare il pensiero di Nietzsche alla meccanica quantistica e molti non sanno dove trovare gli aforismi postumi che ho letto, vi consiglio questo libro che si intitola La volontà di potenza e che è stato curato dalla sorella di Nietzsche e da Peter Gast. Questi link che vedete li potete saltare, sono link che trovate nella descrizione sotto a questo video e se volete troverete anche delle edizioni relativamente economiche che sono andato a cercare apposta per dare dei consigli puntuali invece che generici. La volontà di potenza non è un'opera scritta da Nietzsche, Nietzsche non ha mai scritto un'opera con questo titolo, ma si dà questo titolo a varie raccolte di frammenti postumi. Alcuni mettono in dubbio la validità delle raccolte pubblicate dalla sorella di Nietzsche, ne ha pubblicate credo cinque con il titolo La volontà di potenza, ma questa qui è ben fatta, ve lo posso garantire, e infatti la trovate tuttora in commercio, però poche persone sanno che esiste e sanno che vale la pena acquistarla. Altre le potete trovare sempre con lo stesso titolo, La volontà di potenza, magari curate da altre persone e allora in quel caso troverete raccolte diverse o leggermente diverse di frammenti postumi, quindi potete fare un confronto anche con quelle. L'ideale sarebbe trovare l'opera Omnia di Nietzsche che io ho trovato in passato, ma non ve la posso consigliare adesso perché non ho trovato un link a una raccolta in italiano che avesse un prezzo ragionevole. Consiglio tra le opere di Nietzsche di rileggere Aurora, Pensieri sui pregiudizi morali, un'opera giovanile nella quale si trova l'aforisma capitale che ho letto durante quei video nel quale si capisce chiaramente che Nietzsche intuisce il ruolo del caso dei getti di dadi e si vede anche che le sue intuizioni fondamentali portano dritte e dritte verso l'indeterminazione quantistica e l'abbandono completo del determinismo. Molte persone trovano la filosofia di Nietzsche difficile da affrontare per come si esprime, perché scrive per aforismi, però molti non sanno che esiste anche una diciamo così traduzione in un linguaggio logico, in un'esposizione logica e razionale molto ben fatta e molto accurata di tutta la filosofia niciana, scritta niente po' po' di meno che da Martin Heidegger. Quindi consiglio questo libro che ho rintracciato a un prezzo ragionevole, si tratta di credo 26 euro, altrimenti lo troverete a 50-70 euro, è un libro molto corposo perché è in realtà la raccolta di due volumi, io qui ce l'ho in francese, sono questi due grossi volumi, in italiano è pubblicato in un libro unico e pertanto penso che il prezzo che troverete a questo link sia un prezzo ragionevole per questo libro, soprattutto anche in ragione della qualità del libro. È veramente veramente scritto bene ed è scritto da una persona che ha capito per filo e per segno la filosofia niciana e si è preso la briga di raccontarla e spiegarla in maniera razionale a tutti quanti. Può aiutare ovviamente conoscere qualcosa già di Nietzsche prima di leggere questo libro di Heidegger, però ritengo che comunque sia affrontabile da tutti quanti abbiano un po' di pazienza. Ho pochissimi commenti da fare o cose da sottolineare o accenti che avrei distribuito in maniera diversa perché mi ha colpito l'accuratezza di questo libro di Heidegger su Nietzsche. Troverete tantissimi libri in circolazione di autori che parlano della filosofia di Nietzsche, ecco di quelli non mi sentirei di consigliarne nessuno. Tranne questo, quello di Heidegger, che ripeto vale veramente la pena leggere per chi non ha la pazienza di decifrare gli aforismi niciani. Può essere anche utile fare un avanti indietro tra gli aforismi niciani, tra le opere quindi originali di Nietzsche e quest'opera di Heidegger. Vi raccomando anche di rileggere i libri di Giordano Bruno, come per esempio dell'infinito universo e mondi, perché le sue intuizioni di infiniti mondi abitati sono ovviamente straordinarie e anticipatrici di quello che ci dice la fisica e la meccanica quantistica. Veniamo adesso a un capitolo completamente diverso che riguarda argomenti che pure tratteremo ma che non sono direttamente collegati alla gravità quantistica, alla teoria dei campi quantistici alla meccanica quantistica, la manipolazione, cioè la psicologia umana, come funziona il cervello umano. Dovremmo infatti parlare anche di questo per conoscere chi siamo e come funzioniamo e anche per capire dove sta andando la scienza e quello che presumibilmente succederà nei prossimi secoli. Credo che vi possa interessare sapere quale epoca ci attende e molto di questo possiamo capire se conosciamo come funzioniamo, chi siamo. Dal punto di vista fisico l'abbiamo descritto, abbiamo descritto in generale che cos'è la vita, ma vorremmo anche capire che cos'è in particolare l'essere umano, cioè una specie in particolare, la nostra, come funziona, che caratteristiche ha. E allora vi consiglio tre libri. Uno è un best seller e sarà raro che mi sentirete consigliare un best seller, perché di solito quando qualcosa è popolare non è eccessivamente profondo. Non so se ricordate quello che diceva Oscar Wilde, più o meno diceva non appena gli altri mi danno ragione comincio a capire di avere torto. Cioè nel momento in cui una cosa diventa popolare vuol dire o che è addomesticata o che è annacquata o che è completamente sbagliata. E quindi se io dico una cosa che domani diventasse veramente popolare, quindi raccolta dalla comunità e dalla società nel suo complesso, davvero mi preoccuperei anche io di avere detto una grande stupidaggine. Lo stesso Nietzsche, attraversando varie fasi e varie malattie nella sua vita che gli impedivano di leggere, non appena ritornava a tratti sano e capace di leggere, rimpiangeva la situazione di malattia che gli impediva di leggere tutte le scempiaggini che vengono scritte. Questo primo libro è il libro di Robert Cialdini, Le armi della persuasione, lo vedete in bianco ma è verde, c'è il croma Key che interpreta il verde come trasparente, ed è un libro scritto con dovizia di dettagli forniti dalla ricerca scientifica in questo campo e vi racconta le tecniche di manipolazione usate allora, si stavano cominciando a imporre le prime forme di pubblicità di massa e vi spiegherà come funzioniamo, su quali istinti si fondano le tecniche del venditore di chi fa pubblicità, le tecniche di allora, quindi siamo molto prima dei social network, di internet e di tutto ciò che c'è oggi, però questo libro riveste ancora un'importanza capitale e sarà il primo mattone sul quale noi costruiremo una comprensione molto più avanzata, sintetica e nuova che ci permetterà, vedrete, di sintetizzare il comportamento umano in pochissimi principi, grazie ai quali riuscirete a decifrare facilmente tutto quello che succede intorno a voi e che oggi vi può sembrare molto misterioso da quello che succede nelle relazioni, da quello che succede nell'ambiente di lavoro, da quello che succede in politica e quello che seguite tutti i giorni nei cosiddetti talk show, finalmente anche a quello che succede, è successo e succederà nella scienza. Gli altri due libri che consiglio sono dei libri che pochissime persone probabilmente conoscono ma vale la pena assolutamente leggere. Uno si chiama il metodo Mystery e l'autore si chiama Mystery e l'altro si chiama The Game, il gioco, e l'autore è Neil Strauss. In questi link troverete versioni italiane. Sono libri che consistono in che cosa? Vi spiegheranno anche questi per filo e per segno come funziona il cervello umano. Sono scritti da pick-up artists, dagli artisti del rimorchio. Vi spiegheranno in una maniera veramente brutale, diretta, chiara e quindi scientifica, senza politicamente corretto, senza domesticare nulla, vi spiegheranno come funziona la psicologia umana. E quello che spiegano in questi libri è estendibile, utile per capire non soltanto il rimorchio ma per capire qualunque aspetto della psicologia umana. E infatti a partire da questi tre libri e tante altre cose che descriveremo per filo e per segno elaboreremo anche una comprensione molto più profonda e più fine della psicologia umana che ci permetterà, come dicevo, di sintetizzare in pochi principi tutti quanti i comportamenti che vi sembrano oggi assolutamente inspiegabili, illogici, irrazionali e misteriosi e diventeranno improvvisamente molto facili da capire. Anche questo argomento, quello dei pick-up artists, è diventato una moda. C'è una quantità, una caterva enorme di persone che fanno video su YouTube, sono persone che fanno video improvvisati, persone che non sanno di che cosa parlano, che ne parlano in maniera molto superficiale, che non comunicano veramente quello che è la questione, per non parlare ovviamente dei libri scritti su questo argomento. Questi stessi due libri che vi sto consigliando qui sono l'unica cosa al momento che vi posso consigliare su questo, perché in realtà ci sarebbero stati fino a pochi anni fa a disposizione su YouTube dei video di queste persone che insegnavano letteralmente l'arte del rimorchio, che svelavano tutti quanti i segreti. E ovviamente dei video sono molto più incisivi. Nei libri troverete la sintesi di quelle esperienze, di quelle scoperte, anche perché molte di quelle informazioni venivano raccontate con dovizie di particolari, tale da renderle delle comunicazioni scientifiche, esperimenti, risultati, generalizzazione, legge, legge della natura, legge della psiche umana. Però sono stati tolti. Questi video adesso non li troverete più su YouTube, è possibile passarseli privatamente perché ci sono delle persone che li hanno salvati, visto che erano pubblici, tantissime persone li hanno nel proprio computer, però non è possibile metterli su internet, pubblicarli senza ovviamente il permesso dei loro autori e a quanto pare i loro autori non vogliono più pubblicarli. Non è dato sapere perché alcune persone hanno cercato di farsi questa domanda su internet ma non hanno mai ricevuto risposta. Ecco allora per concludere, per riassumere, i consigli che vi do è di non buttare tempo a leggere libri sulla meccanica quantistica, approfondire Nietzsche grazie ad Heidegger e ai frammenti postumi che trovate nelle raccolte intitolate la volontà di potenza, in particolare quella che vi ho indicato qui per prima, e poi cominciare, se non l'avete mai fatto, la lettura di libri, pochissimi libri scelti, quelli che ho indicato qui, sulla manipolazione, le tecniche di persuasione. Non andate nel mucchio perché quando una cosa diventa interessante o comincia ad avere successo c'è la ressa di gente che si piomba a scrivacchiare le prime cose che vengono in mente pur di intercettare un po' di like, un po' di consenso, un po' di lettori. Questi libri che vi ho detto sono assolutamente validi da leggere. Ecco per concludere farò il de-influencer, cioè quello che fa i consigli di non acquisti, i consigli di non letture e forse un giorno mi pagheranno per non sconsigliare prodotti, magari far soldi letteralmente come de-influencer. Anche il fatto che siano così popolari gli influencer, e cioè che in un'epoca come la nostra si valuti molto chi influenza gli altri e chi si fa influenzare, la dice lunga. Le parole chiave di un'epoca come la nostra sono follower, colui che segue. Pensate voi che merito, che titolo di merito è seguire altri, essere alla dipendenza di altri, farsi influenzare dagli altri, l'influencer, e uno penserebbe ah ma l'influencer è colui che influenza. No, perché l'influencer deve seguire dei filoni prestabiliti e quindi è il primo ad essere influenzato e non a influenzare. E i like, la popolarità, scopriremo perché si è arrivati a questo e dove si andrà, scopriremo veramente chi siamo. Questo è quello che vi consiglio, non altro perché sembrano poche letture per le vacanze, invece sono tante, qui c'è tantissima roba, perché richiedono tutte quante di essere digerite, di essere capite, di essere pensate e meditate. Dalla filosofia di Nietzsche, che evidentemente è un mondo, un universo a sé, e di nuovo sottolineo questo libro di Heidegger per chi la volesse affrontare, spiegato in una forma un po' più razionale, alla filosofia naturalmente del nostro grande Giordano Bruno, che ha avuto delle intuizioni veramente straordinarie, fino alla psicologia. Come funzioniamo? Se non lo sapete ancora come funzioniamo è bene che cominciate a informarvi perché altrimenti non capite molto di quello che succede attorno a voi, dalle relazioni, dalla politica, alla società, alla scienza. E la ragione per cui in questo canale parleremo di questo è per spiegare dove va, dove sta andando e dove è andata per mezzo secolo la scienza. E quindi da quello, prolungando in maniera diretta, capiremo dove purtroppo andrà la scienza nei prossimi secoli. Grazie. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, se non l'avete già fatto, e passare parola tra le persone che pensate possano essere interessate, considerate l'acquisto del libro Dalla Fisica alla Vita, Viaggio nell'infinitamente piccolo e ritorno su Amazon, ti cui trovate il link qui sotto, perché è un buon aiuto per orientarsi tra la messa di informazioni che diamo in questo canale. Grazie. Grazie.